Buongiorno, sono Giuseppe Maier, già ci siamo visti con alcuni di voi questa mattina, questo dovrebbe essere molto più informale, visto che non era previsto, ma visto che sono un cavolo di perfezionista, ho comunque preparato una presentazione al volo, che parla un po' di trasformazione digitale, quindi chiacchieriamo velocemente, ma interrompetemi se sono noioso, se qualcosa che vi racconto non vi piace. Punto di partenza per parlare di trasformazione digitale è questa bella frase di Edison che diceva che lui voleva rendere l'elettricità così economica che solo i ricchi potevano permettersi il lusso di utilizzare la candela, questo cosa ci dice? Ci dice che viviamo in un mondo che è quello del digitale dove forse non ci rendiamo ancora perfettamente conto di quali possono essere le conseguenze, di quali possono essere gli impatti del digitale, se teniamo conto che chi ha inventato l'energia elettrica pensava che la maggior utilità sarebbe stata quella di sostituire le candele. Il ventesimo secolo è stato il secolo dell'energia elettrica che è diventato così pervasivo da diventare fondamentalmente quasi una commodity, cioè se siamo in questa stanza per noi è normalissimo pensare che c'è elettricità, che c'è la condizionata, Dio grazie, e che riesco a far governare una presentazione grazie al mio clicker. È una commodity fino a un certo punto, perché forse conoscete questo signore, Elon Musk, che sta reinventando quella che prima era una commodity, cioè l'energia elettrica, aggiungendoci che cosa? Proprio l'elemento di digitale, cioè la capacità di aggiungere informazioni a un'infrastruttura che altrimenti sarebbe una banale commodity. Cosa succede con il digitale? Il digitale è un cambio di paradigma. Questo è un tweet che mi piace moltissimo, dove ci sono delle persone in una metropolitana a Londra e come vedete la cosa curiosa di questo tweet è che la gente si domanda che cavolo fa quello che non sta guardando il telefonino, che siamo tutti talmente abituati a guardarlo in un momento del giorno e della notte che si rimane traumatizzati. Di solito quando parlo di digitale con imprenditori o marketing manager, la frase tipica che mi dicono è ecco questo è il mondo che avete creato te e quelli come te, una volta era diverso, una volta era meglio, manco per il cavolo, una volta era uguale a oggi, forse peggio per certi punti di vista, di sicuro le persone avevano bisogno di informarsi così come ne hanno bisogno oggi e trovavano degli strumenti che li permettevano di realizzare questo task. Tecnologie e società, questo è il cambio di paradigma. La cosa interessante di questo cambio di paradigma è che tecnologie e società cambiano insieme, in contemporanea. Ai cambiamenti della tecnologia, corrispondono cambiamenti nella società, arrivano nuovi strumenti, nuovi canali digitali e si afferma un nuovo modello di consumo di media. C'è una larga disponibilità di connessione a banda larga e abbiamo dall'altra parte una frammentazione dell'audience. Abbiamo sempre più dispositivi e sensori connessi e questo permette di evolvere i nostri messaggi di comunicazione. L'effetto di tutto questo, ed è all'origine del motivo per cui tutti parlano di trasformazione digitale, è il darwinismo digitale. C'è quell'effetto per cui tecnologie e società si muovono più velocemente di quanto il business è in grado di adattarsi. E questo paradossalmente non porta le aziende a fallire, porta le aziende a diventare irrilevanti. Le aziende tradizionali che hanno una storia, che hanno un vissuto, non muoiono dalla mattina alla sera per colpa digitale, diventano lentamente irrilevanti. Andiamo a vedere allora qualche settore di business e capiamo chi è che sta dominando. Nel settore dell'intrattenimento chi è che domina? Banalmente domina Netflix, no? Da un punto di vista di valore, quello che un tempo era blockbuster e il cinema oggi sono soppiantati completamente dalla capacità di Netflix di raccontare nuove storie e di raccontare nuovo valore. Quindi un'azienda digitale è la leader nel settore di intrattenimento. Nell'industria musicale, una volta c'erano le etichette discografiche, adesso i ragazzini che fanno musica se ne fregano delle etichette musicali, cercano Spotify, cercano YouTube, cercano di farsi conoscere. Quindi anche in questo settore di business sono industrie digitali, sono aziende digitali a fare il futuro. E qual è la car company che cresce di più nel mondo in borsa? Di nuovo è un'azienda digitale, è la Tesla. Quindi anche in questo caso non stiamo parlando più di aziende che sono meramente capaci di fare tecnologia, ma aziende capaci di essere digitali, cioè di cambiare il loro prodotto nel momento in cui le persone lo utilizzano. E c'è una case history bellissima di Tesla che vi racconto velocissimamente per farvi capire cosa intendo. Sapete tutti che ciclicamente le macchine hanno dei problemi, quindi i produttori fanno richiami e richiamano 20.000, 30.000, 500.000 pezzi, con dei costi enormi per l'azienda. Ecco, qualche anno fa in contemporanea Ford e Tesla hanno avuto dei richiami. Ford ha speso milioni di dollari per richiamare le automobili nelle concessionarie e dare automobili sostitutive. Tesla aveva un problema per cui ha fatto un richiamo che era questo. Le Tesla andavano a fuoco, banalmente, cioè andavano molto molto veloci. Non so se sapete che il fondatore di Tesla è un uomo che richiama molto la velocità, il problema è che questa macchina aveva un assetto molto molto basso, la batteria è nella parte bassa della macchina, il brecciolino sbatte contro la batteria, scintille, macchine che andavano a fuoco. Gli ingegneri della Tesla capiscono questo problema e devono fare un richiamo, ma invece di richiamare tutte le centinaia di migliaia di macchine che avevano venduto, cosa hanno fatto? Esattamente come fa Apple quando deve risolvere un problema ai suoi iPhone da remoto, hanno mandato un aggiornamento e di notte tutte le Tesla che c'erano sul mondo si sono alzate di 5 centimetri. Questo è un prodotto digitale? Assolutamente sì, è fatto di ferro, è fatto di oggetti fisici, ma è anche un prodotto intelligente che è in grado di cambiare a seconda dei bisogni. E nel nostro settore il punto vero è che voi vi occupiate di vino, che vi occupiate di tecnologia, che vi occupate di cartone, non è una domanda di se il digitale cambierà il vostro business, ma è quando questa cosa succederà. Ed è meglio prepararsi per tempo. Ci sono tante storie in questo senso che illustrano quanto il mondo si sta evolvendo velocemente, sapete che Instagram dopo due anni della sua fondazione è stata venduta per 12 milioni di dollari, no, un miliardo di dollari con 13 dipendenti, ma quello che mi piace raccontarvi, che racconta il perché Facebook ha comprato Instagram, è questa pagina che è contenuta nel libro dei dipendenti di Facebook, è una delle prime pagine, e fondamentalmente dice se non siamo noi a creare la cosa che ucciderà Facebook, qualcun altro lo farà. E questa è la mentalità che è alla base di un'azienda digitale, cioè costantemente innovare il proprio prodotto, trovare nuovi modi per creare valore per i tuoi dipendenti. Se non siamo noi a trovare la cosa che ucciderà il nostro business, lo faranno i nostri competitor. Aspetta che devo farti fare la foto. Ok, quindi abbiamo detto che le aziende digitali sono quelle che stanno dominando la maggior parte dei settori di business e che domineranno comunque tutte le industrie nei prossimi anni. Come facciamo a capire allora cosa serve per essere un'azienda digitale? C'è questa bellissima citazione di William Gibson che dice che il futuro è già qui, soltanto non è equamente distribuito. Per cui un modo per capire come si fa a essere un'azienda digitale è magari guardare quelli che aziende digitali sono già e provare a copiare qualcosa di interessante da questi signori. Quindi la trasformazione è già qui e la guidano fondamentalmente tre forze. La prima forza è la legge di Moore, la seconda sono le piattaforme e la terza sono i network. Proviamo a vederle una per una. La legge di Moore. Io non ne so assolutamente nulla per cui potrei dire cose a caso, ma la legge di Moore dice che la potenza di calcolo del processore raddoppia ogni 18 mesi. Si è confermata vera negli ultimi 30 anni e anzi ultimamente si è confermata molto più che vera. Test d'attenzione. Sapete dirmi qual è stata la prima applicazione più scaricata per iPhone nel 2006? Dai, siamo in pochi quindi possiamo parlarne. Qual è stata l'applicazione più scaricata nel 2006 dell'iPhone? Oroscopo? Alternative? Ok, questo dimostra che io o sono molto stanco, voi non siete molto attenti. Nel 2006 non c'era l'iPhone. Siamo tutti portati a considerare le cose che abbiamo in tasca, che quotidianamente utilizziamo, come assolutamente standard. Mentre invece non lo sono assolutamente. L'iPhone nel 2006 era stato annunciato, a gennaio 2017 è stato annunciato ed è poi arrivato sul mercato sei mesi dopo. Quello che voglio dire qui però è che le tecnologie sono in costante evoluzione. Il costo per produrre il primo iPhone sarebbe stato diversi quadrilioni di dollari, ma per spiegarvi ancora meglio cosa vuol dire che le tecnologie sono in continua evoluzione e che abbiamo a disposizione enormi tecnologie a basso prezzo, vi racconto la storia di questo simpaticone. Questo simpaticone si chiama Bri Pettis. Chi lo conosce Bri Pettis sa che nel 2009 lui e i suoi amici erano un gruppetto di makers che facevano cose divertenti, magari frequentavano un co-working come questo e cercavano di realizzare nuovi prodotti. Con il loro obiettivo, con il loro obiettivo di fare nuove aziende, Bri Pettis gli viene in mente di realizzare un nuovo prodotto e per farlo ha bisogno di una stampante 3D. E allora come tutti i bravi bambini di New York va da un'azienda che vende stampanti 3D e gli dice, cara azienda, ho un'idea, voglio di una stampante 3D. E lei gli risponde, fantastico, sono 40.000 dollari. Ok? Bri, che è in un co-working, quindi non è che abbia tutta questa, come dire, disponibilità per comprarsi 40.000 dollari di stampante 3D, dice, aspetta un attimo, ma se io sono così carino che mi invento prodotti, magari fra i prodotti che posso inventarmi c'è una stampante 3D. Pochi mesi dopo, realizza nel 2009 la prima stampante 3D a uso consumer, che si chiama Cupcake One. È quella roba strana, rosa, piena di fili. Ok? Brutta da vedere, ma funziona. È una stampante 3D e funziona. Ne fa una, ne fa due, comincia a venderle in giro. Cosa succede di divertente? Che il prodotto migliora, comincia a essere più bello e comincia a essere venduto a tutti gli amici di Bri e agli amici degli amici di Bri. Stacco. Cosa succede? Nel 2013, Stratasys, l'azienda che voleva vendere una stampante 3D a 40.000 dollari a Bri Petis, compra l'azienda che Bri nel frattempo ha fondato e che fa stampanti 3D per 403 milioni di dollari. Quindi, per quale motivo Stratasys, invece di dare un lavoro e una stampante 3D, dopo tre anni, dopo quattro anni, ha dovuto dare 403 milioni? Perché non ha avuto l'intelligenza, la capacità e la comprensione di capire che il suo mercato è in costante attacco da parte dei fattori esterni. E invece di domandarsi come poteva utilizzare la creatività e gli stimoli da parte di un ragazzino come Bri Petis, è arrivato quattro anni dopo a dovergli dare 400 milioni di dollari. Qui la storia è poi alla fine qualcosa che voi vedete ogni giorno, Unicredit, Intesa. Mille aziende oggi in Italia hanno aperto degli acceleratori, perché la paura è proprio questa. La paura è quella di ritrovarsi improvvisamente sorpresi da una piccola startup che, grazie al fatto che le tecnologie costano sempre di meno, è capace di mettere a rischio il loro mercato. Quindi questa è la storia delle stampanti 3D. E ci sono decine di altre tecnologie che hanno ridotto il loro costo in modo esponenziale. Sequenziale il DNA, che è quello che mi piace di più, essendo io assolutamente un malato di malattie, costava 10 milioni di dollari fino a 7 anni fa, oggi costa pochissimo. Voi potete mandare un cotton fioc vostro, con la vostra saliva a 23ME e improvvisamente dopo neanche un mese vi arriva tutto il vostro dettaglio, il vostro DNA. Lo facesse Salvini sarebbe interessante capire che cosa gli viene fuori. Quindi viviamo in un mondo in cui da startup a un miliardo di dollari in termini di valore è sempre più facile, soprattutto per le aziende lingue inglese arrivare. Quindi gli unicorni sono sempre più diffusi e ci mettono sempre di meno a realizzarsi. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Si chiede giustamente il buon John. Sta succedendo che il mondo è passato improvvisamente negli ultimi otto anni, nove anni, da essere un mondo nel business lineare a un mondo esponenziale. Forse se conoscete la storia del fondatore degli scacchi, del fondatore scusatemi, dell'inventore degli scacchi, sapete com'è stata, com'è nata? È molto carina. Un simpatico principio indiano si annoiava tremendamente. E allora, in quanto principio indiano può avere quel cavolo che gli pare, so cosa stai pensando, non ha chiesto quello, ha chiesto di essere intrattenuto. Neanche in quel modo. Arriva un inventore che gli fa vedere il gioco degli scacchi. Il principio indiano si innamora del gioco degli scacchi, diventa completamente folle per questo gioco che è pieno di strategia e gli dice, guarda, è talmente bello, chiedimi quello che vuoi e io te lo do. E l'inventore degli scacchi gli fa, io non sono un uomo molto esigente, mi dai un chicco per il primo quadrato degli scacchi, due chicchi per il secondo quadrato degli scacchi, quattro chicchi e così via. Capite bene che il principio indiano non sapeva fare i conti perché gli ha detto, non c'è problema, non ci vuole nulla, te li faccio avere. In realtà, se fate il conto, siccome è una funzione esponenziale, quello che viene fuori è due alla sessantaquattresima meno uno, che voleva dire riempire tutta la Terra, più altre cinque pianeti grandi quanto la Terra, soltanto di campi di grano, per avere quel numero di coltivazione. La storia non finisce benissimo per l'inventore degli scacchi che viene spuiato dal principe indiano. Però lui si è sacrificato per una giusta causa, perché così abbiamo capito qual è la differenza fra crescita lineare, cioè continuativa nel tempo ma lineare, e crescita esponenziale. Dov'è il valore che molte aziende digitali oggi portano nel mercato? È proprio in quel gap fra una crescita continua ma lineare e una crescita che si basa sulle piattaforme esistenti, su tecnologie esistenti a un costo sempre inferiore e quindi è in grado di essere esponenziale. Qual è il primo take out che ci viene fuori dalla legge di Moore, forse? Il primo take out è che oggi abbiamo accesso a un costo relativamente basso, ad una potenza di calcolo, fino a poco tempo fa, inimmaginabile. E ce l'abbiamo veramente a un costo basso. E come utilizziamo questa forza di calcolo incredibile? Nella maggior parte dei casi la usiamo per giocare a Razzle o a Candy Crash o a quello che detente più opportuno, ma insomma non è esattamente il modo più sensato dal punto di vista di business. Piattaforme, secondo pillar della trasformazione. Siamo circondati da piattaforme, ma cosa vuol dire la parola piattaforma? Piattaforma è un particolare, oltre ad essere una bellissima canzone di Elio Restoretese, ma è una particolare forma di prodotto. La piattaforma è un prodotto su cui altre persone, altre aziende, possono costruire il loro prodotto. E questo è un esempio di una piattaforma lineare. Io ho delle ruote, sulle ruote posso mettere una macchina. Ho due ruote, posso fare uno scooter. Ho sei ruote, faccio la T-Rail in Formula 1 negli anni 70, che però non è andata tanto bene. Quindi ho un numero fisso di prodotti sul quale posso costruire altri prodotti. Questo è un esempio di una piattaforma lineare. Così come lineare è questa sala, io posso fare uno speech in questa sala, non ne posso fare 250. Altro attention test per voi, dopo quello dell'iPhone che avete miseramente fallito, vediamo se qui va meglio. Se io vi racconto di un prodotto, che si basa su queste quattro piattaforme, è un prodotto che si basa sul GPS, si basa su iOS, utilizza Amazon Web Service, quindi il sistema di cloud di Amazon, e le mappe per fornire un prodotto che non fa nient'altro che mettere in comunicazione domanda e offerta di trasporto urbano. Bravissimi. Qui vedo gente sveglia finalmente. Uber non ha inventato il GPS, non ha inventato l'iPhone, non ha inventato neanche il codice su cui l'iPhone gira e non ha inventato le mappe. Uber ha creato un sottilissimo layer di codice che mette insieme queste piattaforme per realizzare un prodotto unico e distintivo. E che questo prodotto poi può essere utilizzato in tanti modi diversi, perché una volta che io ho il dato, io ho le informazioni all'interno della città, potrei anche utilizzarlo ad esempio per dire che vuoi entrare in centro e in centro c'è tanto traffico? Beh, le paghi molto di più, perché ho l'informazione in tempo reale. E di piattaforme ce ne sono decine di migliaia, qui sono le più famose legate a Google, Amazon, Facebook e Apple. Ognuna di queste grandi aziende di fatto è una piattaforma, perché è in grado di fornire servizi in una vasta area di industria. Google, Amazon, Facebook e Apple sanno fornire servizi di intrattenimento, di payment, di infrastruttura e vi dicendo. Vado veloce. Quindi il secondo punto è che la digitalizzazione e la tecnologia oggi permettono la proliferazione di piattaforme esponenziali. Sono dovunque, sono intorno a noi, sono a nostra esposizione. Terzo punto, i network. E con i network quello che possiamo dire è che tutto è sempre più connesso. Abbiamo sicuramente a che fare con una connessione enorme da un punto di vista dei social media, siamo tutti facilmente raggiungibili. Io questa mattina invitavo le persone che hanno seguito il mio speech a stalkerarmi e ne sono arrivate diverse centinaia, quindi sono molto contento. Ma anche gli oggetti sono connessi, siamo tutti sempre più connessi. Ad esempio il mio Apple Watch, ma anche le stanze che hanno un nest, cioè un piccolo oggetto connesso in rete per regolare la temperatura in funzione delle persone presenti in stanza. E sempre di più avremo oggetti connessi perché il costo di questi oggetti è sempre inferiore, è sempre più inferiore. Vi faccio un esempio, in questo caso B2B, visto che mi capita spesso di avere anche qui aziende che mi chiedono, ok, il digitale è bellissimo, ma il B2C è facile, B2B è complicato. Beh, questo è un esempio di un'azienda che produce un prodotto estremamente eccitante, ascensori. La ThyssenKrupp è passata dal vendere ascensori ad affittare il servizio di ascensore. Perché? Perché ha integrato nel suo prodotto una serie di sensori connessi in rete che gli consentono di capire quando quel prodotto ha bisogno di assistenza, quando sta per avere un problema o anche semplicemente fatturarlo per il suo reale utilizzo. Quindi quanto più utilizzo l'ascensore, tanto di più andrò a pagare di affitto. Quindi in questo terzo punto la disponibilità a costi crescenti di sensori e tecnologie abilitanti permette anche lo sviluppo di nuovi modelli di generazione del valore. Quindi abbiamo legge di Moore, piattaforme, network. A cosa portano tutti questi cambiamenti? Portano più competizione. Banalmente pensate a quello che sta facendo adesso Amazon. Amazon, forse l'avete visto, ha lanciato Prime Video, ha lanciato Prime Reading questa settimana, che vuol dire che c'è una quantità di libri gratuiti che puoi leggere su Amazon. E Amazon era un competitor di Netflix? No. Di fatto oggi è un competitor di Netflix, così come è un competitor di Sky. E non è un caso che dopo anni che Sky e Mediaset in Italia sono fatti la guerra su qualunque cosa, improvvisamente, forse l'avete sentito, Sky sarà visibile anche sul digitale terrestre. Non è un caso. Hanno tutti tremendamente paura di quello che sta per succedere. Non sono stato io, forse è stata Sky. Quindi più competizione, più informazione e sicuramente anche più insicurezza. Finisco raccontandomi allora quale che sono, dal mio punto di vista, non soltanto chi domina questo mondo, ma quali sono le parole chiave. E da buon quasi consulente vi devo tirar fuori anche le solite 5P. Ok? Le 5P dell'azienda digitale. Quali sono queste 5P? Sono purpose, processi, persone, prodotti e piattaforme. Purpose. Purpose viene prima di tutto per le aziende digitali. Vi sarà capitato di leggere le lettere, gli stakeholder delle grandi aziende. Il purpose è sempre il primo punto e il più importante. Processi che supportano le persone nella definizione di prodotti che nel migliore dei casi diventano piattaforme. Vediamo velocemente cosa vuol dire. Purpose, forse. Ok. Purpose qui abbiamo una serie di elementi. Primo, anche se mi rendo conto che sembra controintuitivo in un paese come l'Italia, queste grandi aziende digitali mettono il valore prima dei valori. Ok? La mission prima dei soldi. L'obiettivo di Facebook è connettere il mondo, non fare più soldi. By the way, per connettere il mondo abbiamo bisogno di soldi, quindi dobbiamo crescere e dobbiamo fare fatturato. Per capire meglio questo ragionamento vi invito, se non l'avete fatto, è una lettura molto bella, leggere la lettera che Bezos scrisse agli stakeholder di Amazon al momento della quotazione. Quindi se cercate Bezos Letters 1997, c'è la lettera in cui Bezos diceva chi voleva diventare azionista di Amazon, cosa Amazon voleva fare nella sua vita e diceva, testuali parole, se volete fare soldi non è questa l'azienda giusta per voi. E' rimasto così uguale. Amazon continua a crescere il fatturato ogni anno, ma sapete qual è il profitto annuo di Amazon? Zero. Tutto quello che Amazon guadagna lo reinveste. Tutto, sempre. E anzi, ogni trimestre in cui Amazon non annuncia zero come profitto, ogni trimestre in cui questo succede, le azioni vanno giù. Perché le azioni si aspettano che ci sia continuamente un reinvestimento. L'obiettivo non è ancora raggiunto, l'obiettivo è essere il negozio più client centric del mondo. Non è ancora raggiunto, c'è ancora da lavorare, c'è ancora da investire. Secondo tema, nuove modalità per generare valore. Le aziende digitali generano valore in modo diverso rispetto a quelle tradizionali. Terzo tema, che è un po' collegato a quello che ci siamo detti adesso su Amazon, il long game. Noi non ragioniamo in termini di dobbiamo essere profittevoli nel giro di sei mesi, ma abbiamo un obiettivo di lungo periodo, siamo disponibili a investire un anno, due anni, tre anni, non per sempre ovviamente. L'idea non è quella di dobbiamo giocare sempre costantemente in perdita, ma dobbiamo avere un obiettivo di lungo periodo. E questa era la purpose, perché vogliamo fare business. Poi abbiamo i processi, forse. Come vogliamo fare questa purpose? Come vogliamo realizzare questa purpose? E attenzione, i processi vengono prima delle persone, che è fondamentale e spesso gli imprenditori in Italia se la dimenticano questa cosa. Stabilite prima i processi, poi prendete le persone, perché non tutte le persone sono capaci di gestire processi agili. Questa parola magica, agile, che noi ci riempiamo la bocca. È complicato essere agili, vuol dire essere capaci di essere creativi, di interpretare il cambiamento. Quindi processi devono essere agile, devono essere orientati ai risultati e devono essere costantemente validati. Quindi verificare in tempo reale quanto stanno performando le nostre idee, quanto stanno performando i nostri processi e se qualcosa non funziona, cambiare e passare a una fase successiva. Persone. Che tipo di persone devono esserci in un'azienda digitale? Qui non me ne abbiano male i sostenitori di Grillo, ma uno non vale uno nel digitale. Un programmatore non vale un programmatore. C'era Steve Jobs che diceva che il suo obiettivo era assumere gente più brava di lui. Uno non vale uno perché abbiamo avuto l'esempio di Instagram in cui 13 persone sono state capaci di generare un'azienda da un miliardo di dollari quando Kodak aveva tutti i brevetti per fare lo stesso lavoro, ma non è stata capace di farlo con decine di migliaia di dipendenti. Poi lo dicevo questa mattina, non abbiamo più bisogno di manager, abbiamo bisogno di makers, gente che prende i pezzettini del business davanti a lui, la scompone e prova a trovare nuovi modi per ricomporlo. E poi abbiamo bisogno di fluidità. E qui, se non l'avete letto, anche in questo caso sono documenti free, vi consiglio di guardare i documenti sulla cultura di Netflix e di Valve. Quello di Netflix è bellissimo soprattutto la parte in cui parla delle note spese. Chi di voi ha lavorato in una grande azienda sa che, e io ho lavorato per WPP quindi posso dirlo a ragione veduta, è una delle pene più grandi del mondo. Tu arrivi a fine mese, sei già stanco, devi fare le prossime cose e poi devi fare la nota spese in cui devi giustificare qualunque cosa. La nota spese, scusatemi, la policy per la nota spese di Netflix è noi assumiamo adulti. Quindi la nostra policy è se noi ti abbiamo assunto e sei un adulto, idealmente non dovremmo dirti come fare la nota spese. Dicci quello che hai speso, se lo hai fatto nell'interesse di Netflix non hai da giustificare assolutamente nulla. C'è un'altra policy che viene subito dopo questa che è policy sull'abbigliamento e lì dice non abbiamo policy sull'abbigliamento anche se preferiamo che tu non venghi in ufficio nudo. E questo è nel documento che viene dato a tutti i dipendenti che lavorano in Netflix. Vi aggiungo un altro elemento, poi vado avanti che se no ci dormentiamo qua. Sempre su Netflix, nel documento sulla cultura organizzativa di Netflix c'è una parte bellissima in cui descrive come da start-up le aziende improvvisamente vanno in crisi. E dice all'inizio quando la start-up sta partendo e tutto funziona, i dipendenti sono persone che si amano, ci sono i founder, ci sono i dipendenti e sono persone che si vogliono bene e che vogliono andare a pranzo insieme. Quando le start-up vanno in crisi, quando cominciano a crescere e tu inizi a assumere delle persone con cui non vuoi andare a pranzo e a quel punto prendi le persone che non sono dei talenti, prendi le persone che ti servono. E loro in questo libro dicono il nostro obiettivo invece è continuare a crescere costantemente, quindi al crescere della complessità dell'azienda noi continueremo a avere assunzioni complesse e a cercare soltanto talenti, piuttosto non assumiamo, ma non riempiremo mai un posto con una persona a caso. Prodotti, e qui chi si occupa di start-up, chi vive in un co-working avrà sentito mille volte queste parole, MVP, Minimum Viable Product. Io non vado sul mercato quando ho tutto il prodotto finito, completo e definito, ma quando ho il minimo prodotto disponibile per essere testato. L'esempio classico in questo caso è Philips Hue, forse le avete viste, sono quelle lampade che la Philips vende negli Apple Store, in giro, Media World, vi dicendo, che sono connesse, cioè che voi potete gestrare e gestire tramite il vostro telefonino. Quando Philips l'ha lanciato, l'ha lanciato come un esperimento, c'era una lampadina, una lampadina che cambiava colore e basta. L'hanno lanciato, hanno visto nel mercato come le persone giocavano con l'applicazione e in funzione del modo in cui le persone giocavano con l'applicazione hanno inventato altri prodotti, hanno realizzato altre funzioni dell'applicazione, fino ad arrivare al punto che oggi Hue è un'altra azienda rispetto a Philips, hanno fatto un altro business incrementale rispetto a quello di Philips. Quindi MVP, useful, dobbiamo fare prodotti che siano il più possibile utili e la caratteristica principale dei prodotti digitali, che abbiamo capito bene con l'esempio di Tesla di prima, spero, è che devono essere prodotti capaci di imparare, devono migliorare ogni volta che vengono utilizzati. Se non è un prodotto che migliora ogni volta che viene utilizzato, non è un prodotto digitale. Piattaforme, cosa serve per fare da un prodotto una piattaforma? Bisogna essere aperti, bisogna avere una community e bisogna essere disponibili a cose inaspettate. Aperti cosa vuol dire? Vi siete mai domandati per quale motivo Apple permette a tutti quanti di sviluppare il suo app store? Perché così ha dei contenuti, perché così l'iPhone vale molto di più della sua tecnologia, ha un sacco di contenuti in più da vendere. Ma c'è anche un altro motivo, perché se arriva un'applicazione che fa un servizio nuovo utilizzando la tecnologia dell'iPhone che Apple non aveva immaginato e quel servizio va benissimo, cosa può fare Apple? Lo copia. Gli altri l'hanno fatto e hanno lavorato per lei, realizzando un servizio e verificando se quel servizio era interessante per il mercato. Apple può comprare quell'azienda, se è buona, altrimenti chiude le api verso quell'azienda e copia quel servizio. Se ci pensate, qualche anno fa c'era un'applicazione che faceva foto HDR sul telefonino. Apple ha visto che questa cosa era molto richiesta, l'ha implementata e quelle applicazioni sono scomparse. Sulla parte invece di inaspettato è qualcosa che ha a che fare con l'ascolto della rete, cioè con la capacità di comprendere quando le persone vogliono utilizzare il nostro prodotto in modo diverso, come ce lo siamo immaginati. Quando è uscito fuori il Kinect di Microsoft, era uscito fuori con un sistema chiuso che Microsoft aveva realizzato unicamente per far videogiocare i suoi clienti. Improvvisamente si era accorta che la gente hackerava questo hardware per farne altre cose, per giocarci ma per farne altre cose. Quando si sono resi conto che c'era una comunità grande che voleva giocare con i suoi prodotti e quindi c'era un'opportunità di far diventare quel prodotto una piattaforma, hanno aperto il prodotto, hanno rilasciato l'SDK e da quel momento è diventata una piattaforma. Quindi le 5 P, e mi avvio a concludere, Purpose in grado di applicare e indirizzare processi che supportano le persone nella definizione di prodotti che possono trasformarsi in piattaforme capaci di crescere oltre i confini dell'offerta esistente. E qui se non mi rispondete in due nanosecondi vi picchio a uno a uno, qual è questa azienda che ha come Purpose organizzare l'informazione del mondo e renderla universamente accessibile? Processi, tanti tentativi, user focus e velocità lean. Persone assumono soltanto problem solver e assumono soltanto ingegneri. Il loro prodotto è l'informazione, semplice e scalabile. E le piattaforme si chiamano AdSense, Android e vi dicendo. E Dio santo sì. Detto ciò, io mi fermo. Vi ringrazio, è stato un piacere.